Ancora un suicidio tra i dipendenti di Telecom Orange. Un funzionario del gruppo, 57 anni, si è tolto la vita dandosi fuoco nel parcheggio di una filiale della compagnia nei pressi di Bordeaux. Dal 2008, 58 persone che lavoravano per l'azienda si sono uccise. Secondo i sindacati, il suicidio sarebbe legato alle condizioni di lavoro.